ed eccolo dj6 roberto capano spero fai un po' di mix la stanza ludica la grandezza di questa stanza c'è tutto c'è tutto per non rischiare di esibire xbox, tuo padre, il computer, la connessione lo sa qualcosa, la psp il metro roberts la lice borse quindi la distanza massima massimo 30 cm quando dovrebbe essere quattro volte la grandezza del pollice insamato dell'axe perché bisogna preservare la distanza preservare questa è la stanza lenta con la culla uanata c'è un altro televisore piccolino ma quanti cazzo sono io ragazzi avvocato avvocato scarpetta la ma che mi fa già stavola buona è fortissima ma che c'è un gu Bella è un misturo ma quella è la città è la città è la città ma quella è una cucina убbinata la cucina sta a fare la cucina è la città Proprio non è profilo Con questa chiudiamo Devo giudicare Com'è? Con questa scena Chiudiamo tutta la madonna Arrivederci